Sul tuo mila count sono ancora tuo amico Oh, penso di sì E questo qua è il mio mila count Invadiamo No, non sono solo il smurf Ragazzi, qualcuno di voi è di Novara o dintorni? Cosa per? Cosa per? Cosa per questo? Abbastanza vicino a Novara Vuoi un cane? E Lux sfonde la porta Ma ce l'hai il giardino? Ciao Andrea Sì Lord No in realtà non è proprio un cucciolo Penso che abbia un anno o qualcosa Però Cioè poverina E' da togliere dal canino Mi fa troppo pena Mi fa veramente troppo pena Ripeto l'avrei presa io Se avessi potuto Vorrei Ma non posso E' da togliere dal canino Traunina buona notte Buona Mi sa che domani Domani faccio un video su sta cosa Però vorrei avere più informazioni E' da togliere dal canino Tra tutti quelli che sono su youtube Ci sarà qualcuno di Novara o di intorni Che vorrebbe prenderlo no? Devo prima capire se ha un padrone E se l'hanno abbandonata Perché se l'hanno abbandonata Il padrone non la rivolrà sicuramente E quindi Raga Marcirà 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 è una barra brutta Però Rimarrà in In canile Tutto il tempo Che per carità Meglio finire in strada Al freddo Però Ho sbagliato Qualcosa Ho sbagliato Colpa mia Oggi sono stato Oggi sono stato Alistair Ma Cristo santo Non hai luce? Lux? Si Ma Il fatto è che L'abbiamo trovato Sotto casa mia Così fa Ho letto Ma non ho capito Cosa hai detto Come ho detto Qua era anche Il romano Cosa Troppo Sotto Ma Sotto Il romano Ci sono perdite La vita è semplice, prendere la scuola o perdere la possibilità C'è Luke C'è Luke Ah Vabbè, quelli che trovi in Ranked non fanno bene Ah Vabbè, quelli che trovi in Ranked non fanno bene Oh, come bello è che mi sentisse I'm willing to shoot my past in the face Ah The ascended think they own my people They are wrong oh potrò vien dar only need one eye to hit my mark my folks keep telling me to settle down not my style not the same I got a feedersick 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 And I rocked it also use experience Non funziona, io salgo. Non penso che trovino qualcuno qua. Non penso che non si può fare. Non penso che non si può fare. Le piazza e le piazza vanno insieme come il rice e il saffron. Vorrei andare back. Via. E lo scettolo vampirico. E lo scettolo vampirico. Indari era un grande capitano. Mi insegna mi come shootare. Mi insegna mi come shootare. No, me l'ha interrotto. Buono. Siamo sfondati. Mi ha scelto di proteggere. Non è che è la Fiddlestick che ci fa... la B. Ci fa B. Fiddlestick, mi sa. Basta, basta, basta. Ancora forte, Samira, comunque. Lo scelto di chi è andato. Sì, l'ho giocata bene. Sì, l'ho giocata bene. Ma cosa stai dicendo l'iron? A me sembra un po' eccessivo Ok, I don't know what you see Che game banger Eh ale, un altro gruppo di Thor Grazie ragazzi, lo so, sono molto bello oggi Ho pure di fida sticchio Dai vai Io ci credo che sono fatto Eh rib Così mi hanno visto Purtroppo Ma sì, lasciate risparmare un po' figlioli Noi ci siamo salvati Peccato per il mio flash Potevo forse non farlo Va bene Ah Chepetai Chepetai Ho giocato abbastanza bene Non senza una brinciorina di mano Ho giocato Grigio Gg 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 erano in shurima, riusciti da noxus magari sarò in demacia per fare le cose interessanti forse dovremmo aiutarli stai nei cespugli arrivo ragazzi arrivo non c'è nulla non c'è nulla ok c'è un caldo, ma è messo non c'è nulla sono pazzo ok non è pazzo stai sacrificato stai sacrificato con un buen support non c'è nulla ok allora vabbè dopo tutto ho deciso di salvare il suo figlio il mio amico che ha appena invitato un drago il mio amico che ha appena invitato un drago pensavo che ero troppo innocente ma si non è vero dai dobbiamo aiutarlo prima in realtà ho detto mi ha addirittura ho spratto ha sparato mi ha addirittura Tu lo sai che io di laivo Per pochissimo Stavo facendo le magie Per così poco Ciao alfiuz E' andato concentratissimo Voglio che così Non so se avete i danni Ho visto un flash Non c'è così il tuo ziz Con oltre una forza Sì, che bene Fatto Daisy I'm dead Ma home Ok Non ho capito perchè troncavo io, qua mè. Eh Trippus nelle placement è normale, sono fatto apposta. Poi dopo ti mette nel tuo ruolo, tranquillo. Cioè ti mette nel tuo ruolo. Cioè ti mette nel tuo ruolo. Poi se ci fida sti qua. Cioè ti mette nel tuo ruolo. Cioè ti mette nel ruolo. Cioè ti mette nel ruolo. Cioè ti mette nel ruolo. Sì. ci piace ci piace sono un po' fuggato però devo lasciarla a Galia my bad si protegge The Collector ho un po' di critico no Davide no assolutamente no, non giuro una volta si, ora non giuro no, P� Tutto io non giuro no, P�is no, P munto non giuro oh, scopo tu la la mia non giuro in paddle si, che si, che non si, che Ok, sono di nuovo pulita, ero a 10 HP due secondi fa, ero a 10 HP dieci secondi fa, ma un attimo fa. Ah, ma ricco stavolta, stavolta l'abbiamo sagerato. Questa cosa fa sbanno puro, ulti velicos, ma da quant'ora mi sono preso in faccia. Mi sono preso in faccia l'intera ulti velicos! Ciao, Lux! Che cattivera contro il povero albero! Che cattivera contro il povero albero! Se pensi che sono i morti per fortuna e fortuna, sono i ragazzi! Come tutti i altri! Che cattivera contro il povero albero! Ha! 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 Unip outlet diürü! Ma! Ha! Ma! Che cattivera contro il povero al Jimmy Spishore. Mi hanno negato la Penta che mi hanno negato. Bastardi. Bastardi. Mi hanno negato la Penta. Non perdo lo scudo. Non perdo lo scudo, ma che figato. Lux? Vieni qua, Lux. Lux? 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 BALANCE BALANCE Avrei seguito l'INFINITY EDGE lì? Avrei fatto PENTA che per forza Avrei seguito l'INFINITY EDGE Avrei fatto PENTA Ascolta che potevano lasciarla Che cattiveria LUXE LUXE Non mettere il muso dentro al tè EI Non mettere il muso nel tè Non mettere il muso dentro L'abbè, piaci quello se vuoi Sì Non, 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 non. Ma ho troppo ormai, lì c'è il fatto che mi raccoglione. Oh, che faile. Il mio tempo è precioso. Mi ha stunnato 500 volte. Alistar non so quante volte mi ha stunnato. 2000, credo. GG! Amici, spero vi state divertiti. Vedete ragazzi, ora vi dirò una cosa. Ora tutti quanti diranno, wow, Samira, quante OP, wow Ian, ma come hai fatto, bravissimo. E nessuno noterà che in realtà mi ha fatto fidare Rel. E quindi il povero support rimarrà sempre senza meriti. Perché è il support. Ed è la loro vita. Non avere meriti. Poveri support.